Basta! Lo sai cosa ti farei? Noi prima di me! Dobbiamo inventarci un piano. Hai ucciso mio fratello. Hai ucciso mio fratello, pezzo di merda! Tu! Tu, bastardo! Mi hai sparato! La prossima volta ti sparo alla gole, la tua sola c'ha chivano! Ehi! 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 Ragazzi! Più siamo veloci ad arrabbiarci, più siamo lenti a comprendere. Sì, io sono veloce a romperti il culo, però, giuro su Dio! Vieni qui, brutto pezzo di merda! Dovevo piantarti una pallantola nel culo! Quando punti un dito contro una persona, quattro dita puntano contro di te! Sono tre! Che strano! Basta! Lo sai cosa ti farei? Noi prima di me! Tu prima crepi e poi... Signori! Lasciami! Una prugna non se la prende con l'uomo affamato, ma col contadino che ha piantato l'albero. Se la prende con... Se la prende con il contadino... Come fa una prugna a prendersela con qualcuno? Le prugne se la prende... Ascoltate! La morte bianca è il contadino! Quindi noi siamo le prugne? Siamo le prugne? Non ha senso perché cazzo usate le metafore! Guarda, lui ha sparato a mio fratello! Su, hai sparato a mio figlio! Ci prepariamo insieme o moriamo da soli? Questo cercavo di dire! La morte bianca vi aspetta con il suo esercito di assassini, killer che vengono da tutti i paesi. Lui però non sa che mio figlio e io siamo su questo treno. Se il destino vuole, avrò la mia vendetta. Io andrò in Fondortreno e fermerò quei riei che posso. Io andrò nella cabina di guida e ci tirerò fuori da qui. Tu che farai, Joburg? Guadagnerò del tempo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!